Ciao, sono Lorenzo e bentornati su Mi Offro Io. Prima di guardare questo episodio 8, vi consiglio di recuperare almeno l'episodio 7 di questa serie dedicata all'educazione finanziaria, perché parliamo di alcuni concetti che ho introdotto lì. Vi ricordate l'episodio 0? In una delle tre domande del quiz che vi avevo posto, vi avevo chiesto a quanto ammontasse il vostro capitale se oggi investite 100 euro in un fondo, che vi rende il 2% annuo, tra 5 anni. Beh, il calcolo della crescita del capitale in funzione del tempo, se non aggiungete e ne togliete alcun centesimo dal vostro investimento, è una semplice applicazione dell'esponenziale, per chi si ricorda la matematica del liceo. Ma vediamo di fare insieme questo conto. Allora, partiamo all'anno 0, quindi all'inizio, con 100 euro. Abbiamo detto che questo fondo ci rende il 2% annuo. Alla fine del primo anno quanti soldi avrò? Avrò 100 euro più il 2%, quindi 2 diviso 100, di 100. 2 diviso 100 per 100 fa 2, quindi in totale avrò 102 euro. Che mi conviene però riscrivere in questo modo. 100 euro per 1 più 2 diviso 100. Ok? Giusto per comodità. Fa la stessa cosa, ma per comodità. Al secondo anno, alla fine del secondo anno, quanti soldi avrò? Avrò 102 euro più il 2% di 102 euro. No? Adesso l'interesse lo calcolerò sul capitale che ho alla fine del primo anno, perché sto assumendo di non aver prelevato alcun centesimo né aggiunto alcun centesimo. E quindi qui avrò, anche qui mi conviene riscriverlo, 102 euro per 1 più 2 diviso 100. No? Ma adesso qui vedete subito che posso utilizzare questo risultato qui, e quindi semplicemente riscrivere 100 euro, che è il mio capitale iniziale, per 1 più 2 diviso 100 al quadrato. Ok? Che fa 104.04 euro. Alla fine del terzo anno partirò questa volta da 104.04, a cui ci aggiungo il 2%, di 104.04 euro. E anche qui, ormai avete capito il gioco, semplicemente scriverò 100 euro per 1 più 2 diviso 100 alla terza. No? Seguendo lo stesso schema. Quindi è evidente che alla fine del quinto anno avrò 100 euro per 1 più 2 diviso 100 elevato alla quinta. Allora, vediamo il risultato di questo. È 110,4 euro. Cioè 110 euro e 40 centesimi. Quindi non sono semplicemente 110 che otterrei da un interesse semplice, in cui prendo 100, il 2% annuo è 2, e ogni anno aggiungo 2 fino ad arrivare a 5 anni, quindi avrei 110. Ma qui ho 110,4, quindi un po' di più, non tantissimo, ma come vedremo questa somma può anche incrementare, lo vediamo tra poco. Quindi in generale avrò che il capitale al tempo t, quindi dopo t anni, è uguale al capitale iniziale, c0, per 1 più i, che è il tasso di interesse, elevato alla t, dove t è il numero di anni. Con questa formula possiamo divertirci un po', perché per esempio è banale fare altri calcoli. Supponiamo di investire, ad esempio, 1000 euro e di aspettare 20 anni, in un fondo che però ci dia un interesse del 10%. Beh, dopo 20 anni avremo 6727 euro rispetto ai 1000 iniziali, quindi un guadagno del 672,7%, a fronte di un rischio di perdere solamente quei 1000 euro che ho investito inizialmente. E questo è il potere della capitalizzazione composta, che è uno dei principi di base della finanza e che ci permette di comprendere come il tempo, come avevo già detto nello scorso episodio, sia cruciale nel determinare il rendimento di un investimento. Matematicamente, dicevamo, la capitalizzazione composta altro non è che un'applicazione della legge dell'esponenziale, appunto con questa formula che ho scritto, dove abbiamo detto c0 è il capitale iniziale, i è il tasso di interesse, 1 più i è elevato alla t, dove t è il numero di anni, che aspetto, e ct è il capitale dopo t anni, che è anche detto montante. Una delle proprietà dell'esponenziale è che i suoi effetti sono molto piccoli all'inizio, ma diventano via via maggiori con il passare del tempo. Abbiamo appena visto, per esempio, che al 2% annuo 100 euro diventano dopo 5 anni 110,4 euro, ma dopo 40 anni diventano 220,8 euro, quindi ben più del doppio del capitale iniziale. C'è una semplice regoletta che potete memorizzare, ovviamente è un risultato matematico, ma fa comodo averla a memoria, e si chiama regoletta del 72, cioè per sapere dopo quanti anni il vostro capitale iniziale si raddoppia con un certo tasso di interesse, dovete prendere 72 e dividerlo per il tasso di interesse. Quindi, per esempio, se il tasso di interesse è del 2% annuo, fate 72 diviso 2, che fa 36, quindi dopo 36 anni il vostro capitale si raddoppia. Abbiamo appena visto nell'esempio che dopo 40 anni il capitale è ben più che raddoppiato. Se il tasso di interesse fosse al 6%, per esempio, fate 72 diviso 6, che fa 12, quindi il vostro capitale si raddoppia dopo appena 12 anni. Questo fatto è da tenere a mente quando cominciamo ad investire i nostri risparmi, perché all'inizio non vedremo per nulla i risultati, ma dobbiamo avere fede nella matematica, e anche nel fatto che le cose andranno bene, ma di questo parlerò tra poco, che nel lungo periodo i risultati si vedranno. Bisogna perciò resistere alla tentazione di lasciar perdere e continuare con costanza nel risparmio e nell'investimento. E credo che questo possa anche essere un insegnamento per la nostra vita di tutti i giorni, quando cominciamo a fare qualcosa e non vediamo immediatamente i risultati. Mi ricordo all'inizio di questo canale, mi offro io, in cui c'erano poche decine di persone che mi seguivano, però poi sul lungo periodo i risultati si vedono, gli sforzi vengono ripagati. E oggi siete più di 70.000, spero a breve supereremo anche la soglia dei 100.000, quindi iscrivetevi, mi raccomando. La forza della capitalizzazione composta si vede in particolare quando investiamo in modo costante nel tempo, mettendo via e investendo un po' di risparmi ogni mese e avendo un lungo orizzonte temporale davanti. Pensate per esempio che con un tasso di interesse annuo del 7%, mettendo via 100 euro al mese per 20 anni, a fronte di un investimento totale mettiamo via 100 euro al mese, quindi per 12, questa è la cifra in un anno, per 20 anni, che fa 24.000 euro. E questi soldi non li investiamo tutti in una volta all'inizio, ma pian piano appunto 100 euro al mese con il 7% annuo. Ebbene, pensate che dopo 20 anni, a fronte di questi 24.000 che in totale avete messo via, avrete un capitale finale che è di circa 52.000 euro, quindi più del doppio di quanto avete investito. Notate che qui la regola del 72 non si applica, perché non stiamo investendo tutto in una volta, ma stiamo investendo man mano nel tempo e quindi il calcolo matematico da fare è un pochino più complicato. Inoltre, il fatto di investire con regolarità e non tutto in una volta ci permette di sfruttare i momenti in cui i prezzi degli strumenti finanziari sono più bassi, quindi potremmo comprarne di più e anche a non andare nel panico quando invece ci sono momenti di crisi, perché siamo fiduciosi che nel lungo periodo i risultati positivi si vedranno. Ovviamente valgono tutte le considerazioni sul rischio che ho fatto nello scorso episodio, per cui la diversificazione è cruciale per non mandare tutto all'aria. Di solito questa diversificazione degli strumenti finanziari viene fatta mediante i fondi comuni di investimento, che sono degli strumenti di investimento in cui più risparmiatori danno i loro risparmi al gestore del fondo e il fondo compra quindi delle azioni e delle obbligazioni in misura molto maggiore rispetto a quanto potrebbero fare i singoli risparmiatori e ne compra anche di molto diversificate e conseguentemente i risparmiatori prendono parte ai guadagni o alle perdite in base alla percentuale di quote del fondo che possiedono. Ci sono anche altri tipi di fondi che però non cito in questa serie dedicata alle basi sull'educazione finanziaria, ma se siete curiosi e volete approfondire potete sempre prendere spunto da quello che dico qui e andare a vedere in descrizione le fonti che vi metto nel sito. Finora abbiamo sempre parlato del tasso di interesse come di un numero dato e immutabile, ma ovviamente non è così, a meno che non state sottoscrivendo una singola obbligazione a tasso fisso, in cui il tasso è effettivamente scritto ed è quanto l'emittente si impegna a restituirvi di interesse insieme al capitale che avete prestato, in generale se investite in un fondo nessuno vi garantisce quale sarà il tasso di interesse. E questo può fruttare anche molto di anno in anno, anche diventare negativo e insomma riflette quella incertezza che è la manifestazione del rischio connaturato ad ogni investimento. Quando sentiamo parlare di uno strumento finanziario che ha un certo tasso di interesse, quindi, quel tasso di interesse è sempre calcolato sul risultato passato, sulle cosiddette performance passate. Ovviamente, come abbiamo già detto nello scorso episodio, il passato non è un'indicazione del futuro. Può darci qualche informazione, ma ovviamente non ha valore predittivo. Dobbiamo, come sempre, ragionare in termini di probabilità che delle cose accadano o non accadano. Per fare però un esempio pratico possiamo considerare l'indice Standard & Poor's S&P 500, che è un indicatore, sostanzialmente, che ci dice quale sia il valore azionario delle 500 principali aziende sul mercato statunitense. Ebbene, dal 2000 a oggi, il tasso di interesse annuo medio di questo indice, quindi di questo indicatore, è stato di circa il 7%, e in mezzo dal 2000 a oggi c'è stato l'attacco alle torri gemelle, la guerra in Iraq, la crisi finanziaria del 2008 e la conseguente recessione globale, la crisi del debito in Europa, la pandemia da Covid-19 e anche la guerra russa in Ucraina. Quindi tutti i momenti di crisi epocali che ovviamente hanno portato il valore di questo indice a calare nel breve periodo, ma comunque dopo poco più di 20 anni in generale c'è stato un incremento del valore. Quindi in 20 anni, nonostante tutte queste crisi, l'indice è andato su. Quindi se avessimo investito 100 euro nel 2000, oggi ci ritroveremo con circa 480 euro. La domanda quindi è questa. Ragionevolmente i prossimi 20 anni, per esempio, saranno migliori o peggiori degli scorsi 20 anni? E in generale il mondo tra 20 anni sarà un posto migliore o peggiore di oggi? Rispondete a questa domanda e saprete se siete disposti a fare un investimento oggi oppure no. Io la mia idea ce l'ho e il fatto che investa dovrebbe essere un'indicazione di quale sia. Un'ultima cosa da dire, infine, è che non abbiamo tenuto conto dell'inflazione, che abbiamo però più volte menzionato negli scorsi episodi. Ebbene, l'inflazione funziona esattamente al contrario della capitalizzazione composta. E quindi la formula da usare è ct uguale a c0 diviso 1 più i elevato alla t, dove ct è il nostro capitale dopo t anni, c0 è il capitale iniziale, t è il numero di anni e i, in questo caso, è il tasso di inflazione. Anche per l'inflazione vale la regoletta del 72 e quindi, se per esempio il tasso di inflazione è del 6%, come quello più o meno attuale, 72 diviso 6 fa 12 e quindi dopo 12 anni il valore del nostro capitale si è dimezzato. Per tenere conto dell'inflazione matematicamente si calcola il tasso di interesse reale, creato da tr uguale a 1 più tn diviso 1 più i meno 1, dove tn è il tasso di interesse nominale, tr è il tasso di interesse reale e i è l'inflazione. Se l'inflazione è bassa, questo risultato si può approssimare come tr uguale a tn meno i. Cioè per sapere il tasso di interesse reale basta fare il tasso di interesse nominale meno l'inflazione. Ora capite perché è bene non tenere i nostri risparmi sotto al materasso, ma investirli, sapendo ovviamente che ci sono dei rischi, ma sapendo anche che c'è un modo di gestirli. La diversificazione, per esempio, è uno dei modi più importanti. Quindi questo era tutto quanto volevo dirvi in questo ottavo episodio della serie dedicata all'educazione finanziaria. Abbiamo parlato di capitalizzazione composta, uno dei principi fondamentali. C'è stato un po' di matematica, nel caso andatela a rivedere, però sono veramente concetti fondamentali. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video, condividetelo con le vostre amiche e i vostri amici, e noi ci vediamo al prossimo video.